Ok, allora, non so se si sente, eccomi qua e oggi, beh, siamo al dicembre inoltrato e non mi ricordo che giorno è, il numero, aspetta, 12 dicembre, ci siamo arrivati. Il mare è mosso ma non tanto, e finalmente è nella temperatura della mia muta, perché è stato di 15 gradi e io ho la muta per acque fredde dai 12 ai 17. Allora, un attimo che mi tolgo le scarpette della serie Il problema è reale. Queste sì, sono le scarpette di plastica che si appiccicano al piede che è una gioia. Ok, entriamo in acqua. Allora, eccomi qua. Spero si senta. Eccola, qua, vabbè, non è ancora dolorosamente fredda. L'anno scorso ho fatto una volta il bagno e sembrava che mi stessero trafiggendo. Ho comprato finalmente la custodia per il telefono. Quindi, spero di poterlo bagnare e spero che funzioni, altrimenti non vedrete mai questo video. Ok? Avevo detto che non era mossa. Belle onde. La prima bagno... Primo bagnetto del mio telefono. Ecco, adesso vi faccio vedere il mare. Eccolo qua. Bellissimo! Onde alte. Ma è stupendo. Il cielo anche è meraviglioso. Ok. Wow. Sono praticamente già bagnata. Il problema adesso sarà quando l'acqua deve entrare nella muta. Eccomi qua. Tornate da me. Praticamente sono già nell'acqua. E adesso è entrata l'acqua nella muta. Praticamente deve entrare nella muta perché come funziona la muta? Che poi l'acqua che è dentro si riscalda e forma uno strato tra il neoprene e la pelle che dovrebbe praticamente riscaldarsi a contatto con il corpo e di conseguenza va bene a temperatura. Ok. Adesso nuoto un po'. Ci rivediamo più tardi. Mi pare che la custodia funzioni. Mi parecchia è un po' di nuovo. Mi parecchia è un po' di nuovo. Soll'acqua. Sì, 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 sì.